Musica 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 Mas evviva voi, evviva Diddy Bizzarro con il suo favoloso show che adesso apre ufficialmente, eccolo qui, Diddy Bizzarro! Musica Molto bene cominciamo con qualche manovra di inquina astrobatica, abbiamo qui i nostri super rappresentanti dei cittadini del diretto, vediamo i enjoy tra questa danza della stessa cosa. Giù la musica, giù la musica Donato. Ecco qui sintonia perfetta tra i due membri del team, la piccola Z4, silenziosa ma letale. Perfetto ragazzi facciamo un applauso, vedi Carmine sorride anche oggi, il nostro meccanico ufficiale stracontento che è ancora tutto intero. Tutte e tre, vi fate un applauso a queste girls, grazie ragazze. Io sono più tranquillo, lo so che sono un po' cattivo però. Ok perfetto, si rimane qui. Una volta ci provano le ragazze, ma non perché io abbia paura, perché così diamo spazio alle donne, più bigliano. Ecco qui il ballo continua, la moderato di mezzo. Ma se lo facciamo sta parlando di forza. Attenzione, abbiamo fatto la guida acrobatica su quattro ruote, andiamo a dimezzare le ruote, le faremo partire uno alla volta su due ruote. Eccoci qui, partita subito la nostra piccola grande stuntwoman, Desiree Bizzarro, voglio sentire l'applauso per lei. Wonder Daisy. Forte, più forte, più forte, siete in sanzi, fatevi sentire. Forza, guardate il buon didi, per non essere da meno. Ecco qui i didi bizzarro ragazzi, le manine anche per lui. Eccoli qua, pronti. Un massaggio di prova su due ruote. Attenzione, li mettiamo uno dietro l'altro, in una bella fila indiana. Sono a centimetri l'uno vicino all'altra. Guardate? No. Andiamo a metterli uno a fianco all'altro, tipo fotocopia. Ecco qui, una bella apertura. E qui sembra che la rossa vada sulla capote dell'altra. Perfetti ragazzi! Perfetto, li abbiamo copiati e andiamo avanti ad accoppiarli. Vediamo un attimo se andremo in schiappe tecniche che vogliono portare questo numero all'estremo. Partenza sempre di Daisy Ray. Ecco qui la combinazione di drift e precisione su due ruote. E questa mi piace molto, sono innamorato di questo. E questo ballo tra bizzarro, didi bizzarro e desimitato. Guardate! Meravigliosi! Bizarro Entertainment! Attraversiamo? No, aspettiamo il rosso, niente. Piatto sospeso. Guarda qui, concentrato, super concentrato. E' incredibile! All'applauso che parte bello! Ecco la macchinina rossa che ha fatto di nuovo il suo scherzetto. Abbiamo su ancora il nostro grande Didi Bizarro che va avanti a girare. Stai ferma lì, stai ferma lì, stai ferma lì, che gli piace. E gli piace sfiorare la sua cugina, ecco qui. Dimostriamo un po' di precisioni su due ruote portate all'inizio. Lui va quasi in surplus. Il pubblico, siete in tanti, fatemi sentire. Grandissimi, grandi Didi. Meravigliosi, grazie per averci regalato queste cose. Noi siamo dietro di voi, non comincia. Io me ne vado. E' più forte! Bravi, così vi voglio. L'uomo pallottola! In pochi metri ha una velocità con la sua Ninja 363. No, 3, 9, 6, 6, 6, 6, 6, 3, 6. C'è qualche fotociclista che troppo ti picchia. E stoppi subito! Mamma mia! Partiamo belli casati. Fantastico! Una miriade dei cavalli! Fa come una pallotta, ragazzi! Se ne va via! Prende velocità! Ricorsona! Via! Super bello! Super gasato! La manina super bello! E' questa, questa. Torna! Ecco qui si torna, dicevamo sorprese. L'applauso più forte, forza! In cambio, un applauso per quante volte. Brava, brava, brava! Bravo! Bravo! Allora, ancora una volta, Manan, hai stupito tante persone, vedevo dei bambini con gli occhi che... Vogliamo ricordare le cose importanti, sì, guidare, sì, fare evoluzioni, però ci vuole tanto lavoro dietro. Certo, buonasera a tutti, spero che vi state divertendo con il spettacolo bizzarro. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti